Ho incontrato persone senza tetto e senza sogni, famiglie in difficoltà, ragazzi in fuga dalla guerra, vite rubate. Beh, io faccio l'attore e di solito distingo la finzione dalla realtà. Da quando ho conosciuto Progetto Arca, la realtà mi è sembrata diversa. Le persone che avete appena visto hanno bisogno di una speranza. Progetto Arca comincia con un pasto caldo e un letto. Invia un SMS o chiama da fisso al 45 584. Sono in gamba, fallo subito. Grazie.